Un uomo vorrebbe avere tante donne per narcisismo. Nel video di oggi, 25 dicembre 2018, Natale, ho intenzione di divulgare ai miei iscritti, ma anche a chi non è iscritto, a questo canale di YouTube che effettivamente, dal mio punto di vista, in Italia abbiamo una situazione in cui, diciamo così, che un uomo, una persona quindi appartenente al genere maschile, vorrebbe avere tante donne per mero spirito narcisistico. Che cosa è il narcisismo? Il narcisismo non è altro che quell'aspetto in cui una persona si considera dal punto di vista estetico e dal punto di vista morale superiore rispetto ad un'altra, ma è soprattutto l'aspetto estetico che va a prevalere. Ciò significa che il narcisista si vede bello, si vede affascinante, si vede importante rispetto alla bassezza della massa. Il narcisista bada molto a se stesso dal punto di vista estetico, si considera un dio in terra e cura molto l'aspetto esteriore. In ragione di questa sua importanza che egli stesso si va a dare, ecco che vorrebbe avere tante donne, vorrebbe avere tante ragazze diverse. Noi non gli ne basta una o due, ne vorrebbe avere anche tre o quattro. Eppure non siamo islamici noi italiani, per esempio. Gli islamici in genere hanno la poligamia, ossia avere più mogli diverse, ma noi umani, chiamiamoli noi italiani, molto spesso vogliamo avere due o più donne, anche tre, quattro, cinque. Non perché vogliamo vantarci, non perché vogliamo farci vedere o notare, ma semplicemente perché abbiamo questo fottutissimo narcisismo che ci fa in maniera, che ci fa in modo di apprezzare noi stessi a livelli superlativi. E quindi io siccome sono importante, siccome sono bello, siccome sono affascinante, devo avere, diciamo così, quello che mi spetta e quindi avere tante ragazze e tante donne, anche per far sì che eventualmente si parli di me. Un ragionamento, questo che trova pieno accoglimento in quelle che sono tante, o meglio molte, menti italiane degli uomini, dei ragazzi. Perché lo si fa, ripeto, perché si vuole far sì, si vuole fare in modo che proprio quelle tante ragazze e quelle tante donne vengano a essere considerate, per me lo spirito narcisistico, ripeto, come il valore aggiunto, il valore in più, grazie al quale un essere umano può dirsi, può ritenersi fortunato e felice. Non c'è niente di più sbagliato che pensare questo. È più importante, dal mio punto di vista, invece pensare al fatto che tutti siamo costretti per forza di cose a morire e dal fatto che noi purtroppo un giorno non ci saremo più. Questo è un ragionamento che deve essere compiuto da ogni essere umano, ma che spesso, o per non pensarci, o per evitare di affrontare il problema, non si pensa e si esorcizza la problematica esistenziale in questione pensando che ci sia un dopo morte, un paradiso, un purgatorio, un inferno, un Dio che veglia sopra di noi, sopra le nostre teste. Ecco, tutto ciò si traduce chiaramente in una situazione in cui noi umani ci troviamo a dover scontrarci con quella che è la realtà triste, opaca, pessimista della eterna domanda. Cosa c'è dopo? Ma perché si muore? Sono tutti aspetti che devono essere tenuti in considerazione, molti tra cui io lo tengo sempre in considerazione, ogni giorno rifletto sulla fine ultima che toccherà anche a me un giorno e più passano i giorni e mi dico perché tutto ciò, perché nascere, perché vivere, perché un giorno devo morire. Ma non entriamo in campi che non mi competono, non entriamo in domande che possono apparire per una mente illustre come la mia, troppo, troppo, troppo stupide, anche perché sono domande queste che veramente una persona che sta in buona salute non dovrebbe mai porsi, cioè se una persona sta bene non si dovrebbe mai porre la domanda perché si muore, se la può fare chi è affetto per esempio da un cancro, da una malattia terminale, da una sclerosi multipla, da una AIDS, da un diabete, da una persona con, diciamo così, più e più bypass al cuore. Ecco, queste sono domande che si possono fare da persone come queste, ma non da chi sta bene, da chi è donatore di sangue, da chi ha le analisi perfette. Ecco, tutto ciò quindi, riassumendo brevemente, si traduce sempre nel bisogno di certezze che abbiamo. Ma tralasciando questo argomento ed entrando in quello che trovate, che trovi in questo titolo del video di oggi, dico semplicemente una cosa molto, molto facile ed è questa. accettiamo quello che è la vita, accettiamo quello che è la morte, ma rendiamoci anche conto che purtroppo molti uomini, essendo maschilisti anche, qui entra anche in gioco la componente maschilista, vogliono avere tante donne per mero spirito narcisistico, narcisista. Il narcisismo chiaramente è un aspetto del tutto umano che fa parte di una persona. Il narcisista vede in se stesso la perfezione assoluta e quindi vedendosi perfetto, apprezzandosi sempre di più, anche e soprattutto dal punto di vista estetico, curando molto la sua immagine, dice perché devo accontentarmi di una donna sola? Perché devo accontentarmi di una sola fanciulla, voglio avere più donne, due, tre, quattro, cinque, sei donne e averle tutte per me. Si chiama mero spirito narcisistico. Il narcisismo è tutto ciò. Si va a tradurre dal punto di vista dei comportamenti in una smodata ricerca di ragazze e di donne, anche su web, anche ricorrendo al mezzo chiamato internet, per andare a soddisfare questo narcisismo imperante, presente e continuamente, chiamiamolo, appalesato nei diversi comportamenti o per meglio dire nelle diverse azioni che un essere umano maschio, solamente maschi, vanno a compiere. Le donne non sono per la poligamia, le donne non sono per ricercare o meglio avere due uomini o tre o quattro, anzi probabilmente nemmeno uno uomo gli serve ad una donna, anche perché in genere una donna non è cacciatrice, è però facile preda di un uomo, di un ragazzo. Bene, Reandro Smerli di Roma è tutto, mi auguro di aver svegliato le coscienze, di aver illuminato il mio pubblico e soprattutto di aver fatto capire a tutti come stanno le cose da quello che è il mio punto di vista. Se è chiaro, io non sono Dio, non sono un Dio in terra, io parlo però avendo la certezza di quello che dico. Probabilmente i miei ragionamenti potranno anche essere considerati come errati, a me non interessa, io penso questo. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Grazie, da parte mia, buon Natale e al prossimo video.